buonasera a tutti e bentornati sugli schermi di casa del sole tv iscrivetevi alle nostre piattaforme ramble odyssey e su youtube e al nostro sito perché lì c'è sempre tutto il nostro materiale è di nostra proprietà e sostenete il nostro lavoro il lavoro del nostro canale che facciamo insieme a voi perché altrimenti non potremo andare avanti da settembre ottobre in poi lo potete fare dal nostro sito web dalla pagina www.casadelsore.tv barra sostienici abbonandovi oppure mandandoci un contributo e continuando a collaborare con noi e a partecipare siamo qui oggi a parlare delle ultime novità in termini tecnologici e lo facciamo con l'amico e gradito ospite scrittore e giornalista maurizio martucci buonasera maurizio grazie jeff un saluto a tutti maurizio le persone che sono affette da elettrosensibilità crescono nel senso che cresce il numero ma il ministero della sanità ha negato il riconoscimento della patologia e quindi l'assistenza ai malati un po' ripercorrendo la strategia del non c'è nessuna correlazione ed evidenza che l'esposizione all'inquinamento elettromagnetico causi dei problemi alla salute so che l'alleanza stop 5g si rivolgerà al tar ci vuoi spiegare come stanno andando le cose cosa possiamo aspettarci e da 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 la situazione allora caro jeff la notizia è proprio di questi giorni la si attendeva da diversi anni perché come giustamente hai sottolineato il numero dei malati dell'elettro ipersensibilità questa malattia tipica dell'era elettromagnetica che cresce sempre più nei paesi industrializzati necessita gioco forza anche il riconoscimento dei diritti per quanto riguarda le persone che ne soffrono un paniere talmente ampio della società civile che va dai giovanissimi addirittura dall'età dell'infanzia per arrivare ai soggetti più anziani sempre più persone soffrono di elettroipersensibilità ma rimangono malati invisibili in assenza di un riconoscimento nazionale dal 2021 alleanza italiana stop 5g ha intrapreso un carteggio uno scambio con il ministero della salute veniva specificato al tempo come facendo riferimento ai lea quindi ai livelli essenziali di assistenza ci sarebbe stata la possibilità finalmente di poter dare piena garanzia ai malati di elettrosensibilità né più né meno come per le altre eh patologie quindi lo scorso anno eh attraverso l'azione incomiabile di Anna Zucchero la dottoressa di ISDE Italia a medici per l'ambiente con il sostegno di ISDE eh nella nella persona del presidente Romizzi di ISDE International la persona del presidente Ferdinando Laghi bene con la task force dei legali avvocatitino e salta la macchia si è finalmente si era finalmente intrapreso il primo passo cioè depositare un dossier eh che spiegasse in maniera dettagliata quale fossero le ragioni di questa richiesta non è più possibile che ci siano dei cittadini di serie Z chi rimane indietro chi rimane sguarnito e scoperto mentre la tecnologia avanza e procede a eh tamburo battente e di pochi giorni fa la risposta ci si attendeva eh se non nell'immediatessa una risposta positiva quantomeno la possibilità di poter approfondire il tema di poter magari eh portare del materiale suppletivo che potesse integrare quello già eh fornito invece no una risposta a Tranchan che arriva dal di Castero presiduto dal ministro Orazio Schillaci una persona di Stefano Lorusso il direttore generale della direzione della programmazione sanitaria e dice di no dice di no dice che i dati ad oggi disponibili non consentono di stabilire in maniera univoca il nesso causale tra l'esposizione ai campi elettromagnetici e l'elettro ipersensibilità lo stesso di Castero dice che l'OMS non ha ancora riconosciuto a livello internazionale l'elettro ipersensibilità beh questo lascia un po' spiazzati perché è una affermazione profondamente anacronistica e la stessa oltretutto eh mi veniva ripetuto da alcune assolazioni di malati che circa dieci anni fa magari anche qualcosa di più lo stesso di Castero aveva espresso per quanto riguarda un'altra patologia ambientale come la sensibilità a chimica multipla insomma è sembrata una risposta in carta carbone un carta copiativa soprattutto per una scelta da Ponzio Pilato lavarsi le mani far finta che il problema non esiste in realtà nel 2021 citavo all'inizio lo scambio con il ministro della salute loro nel 2021 dicevano che il problema è esistente quindi esiste e quindi bisognava procedere attraverso un iter eh procedimentale per poter arrivare finalmente a questo riconoscimento invece no oggi ci dicono che i dati non sono disponibili e soprattutto la condizione necessita di adeguata ricerca clinica ma una ricerca di clinica portata avanti da chi? A questo punto eh ovviamente è chiaro che il pugno allo stomaco viene dato nei confronti di chi soffre viene dato magari nei confronti di chi non può accedere nei luoghi pubblici di chi è impossibilitato ad entrare in un ufficio postale perché c'è il wifi di chi non può andare a scuola perché c'è il wifi di chi è costretto ad abbandonare il proprio lavoro la propria casa perché magari sita in prossimità di una stazione radio base antena di telefonia mobile insomma il ministero della salute sa che il problema esiste tanto che lo stesso ministro Schillaci una eh decino a poco meno di anni fa eh fu coautore in termini scientifici di uno studio sulla sensibilità chimica multipla che è l'altra faccia dell'elettrosensibilità e quindi a firma di Orazio Schillaci insieme al compianto professor Genovesi c'è uno studio che parla di malattie ambientali quindi il problema mai esiste ma loro fanno finta di eh non vederlo e vanno avanti con questa linea negazionista che ha tutto vantaggio ovviamente del grande business e ha tutto vantaggio di questa eh tecnologia priva del rischio zero e diventa a questo punto a svantaggio delle fasce più deboli a svantaggio dei cittadini a svantaggio di chi soffre in questo momento estivo ovviamente per non perdere tempo insieme ai medici di Isla Italia insieme agli avvocati Vini e Salta la macchia alleanza italiana Stop 5G sta valutando di poter presentare un ricorso un ricorso al TAR presso il tribunale amministrativo regionale per poter riaprire la partita e poter arrivare finalmente a questo riconoscimento che se non dovesse arrivare all'interno del ministero ci auspichiamo possa avvenire attraverso le aule dei tribunali. E a proposito di studio perché in più c'è anche l'autorità garante della concorrenza e del mercato a Gcom che ha fatto uno scivolone fazzesco dopo ci devi spiegare che ha detto ma a proposito di studio doveva arrivare si aspetta da tempo uno studio europeo che doveva essere molto significativo addirittura come un'onda del mare in termini di garanzie per la salute delle persone e che cosa sappiamo di questo studio dell'Unione Europea? Ecco vedi caro Jeff io sono una decina di anni che mi occupo della denuncia dei lati oscuri del digitale della transizione digitale e soprattutto dal 2018 quindi dagli ultimi cinque anni mi sono e gli amici della casa del sole tv lo sanno perfettamente occupato in maniera particolareggiata dei lati oscuri del 5G denunciando come sia praticamente insensato mandare avanti una tecnologia in assenza di uno studio preliminare per quanto riguarda gli effetti sanitari e ambientali sulla popolazione altrimenti esposta e irradiata da radiofrequenze che ricordiamo essere agenti possibili cancerogeni dove il cancro è semplicemente la punta dell'iceberg di una serie di problematiche sanitarie molto significative tra le quali come ricordavamo prima anche l'elettroipersensibilità. Ebbene a fronte di questo vulnus, a fronte delle richieste continue dei cittadini dell'assorazionismo, a fronte anche del dibattito che si è aperto lo scorso anno all'interno del Parlamento Europeo dove gli scienziati indipendenti auditi dallo Stoa che è il panel programmatico di Bruxelles, dicevano beh non è possibile continuare così, c'è bisogno di uno studio scientifico sugli effetti cancerogeni e non solo del 5G. Insomma bisogna dire che cosa fa questa tecnologia così massiccia in termini di implementazione di infrastruttura tecnologica. E la risposta è arrivata, è arrivata da Bruxelles con Horizon Horizon, che è il programma a lunga gittata di ricerca scientifica internazionale, sono stati stanziati 7,3 milioni di euro per il progetto esposizione su base scientifica e valutazione del rischio dei sistemi a radio frequenza dai bambini e agli anziani 5G e oltre. Quindi evidentemente si sta parlando anche in ottica seggi wireless di sesta generazione. A prima vista ovviamente una notizia del genere potrebbe sicuramente generare conforto quantomeno nelle aspettative di quanti si attendono una sicurezza per quanto riguarda la protezione della salute pubblica, posto che lo studio andrà a terminare il 31 di maggio del 2025. Nel frattempo ovviamente il 5G prosegue nell'installazione di antenne, come sappiamo. Ebbene, in realtà io sono andato un po' a frugare quali sono i soggetti in campo, quali sono praticamente gli enti, gli istituti di ricerca, le università, anche le aziende, perché è stata inserita anche un'azienda all'interno di questi 11 sottogruppi che analizzeranno 640 contributi scientifici. Bene, stiamo parlando di 15 soggetti che ruotano intorno al triangolo inaspettato, ecco lo dico subito, inaspettato perché c'è la Svizzera che non fa parte della comunità europea, ma la Svizzera rientra tra i soggetti finanziatori di questo programma Horizon. Quindi insieme a Bruxelles, comunità europea, Unione europea, c'è anche la Svizzera e quindi i ricercatori chi sono? Ruotano intorno a un triangolo tra Svizzera, Francia e Germania. Troviamo all'interno di questi soggetti la IARC, l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, afferente all'OMS, qui chiunque potrebbe dire beh, finalmente un ente pubblico indipendente che studia il cancro, ma in realtà da qualche anno sta facendo un pochino il gioco delle tre scimmiette, non vedo, non sento, non parlo, la IARC per quanto riguarda le radiofrequenze, perché aveva annunciato nel 2019 che con urgenza avrebbe rivalutato la classificazione per quanto riguarda la cancerogenesi dell'elettrosmog, quindi le radiofrequenze onde non ionizzanti, priorità 2020-2024. Siamo alla metà del 2023, di questa priorità praticamente non ce n'è ombra e dai rumors fuori usciti da Lione, dove c'è la sede della IARC, pare che tutta questa fretta e soprattutto tutta questa intenzione di rivalutare la cancerogenesi dell'elettrosmog sulla scorta degli studi indipendenti del Ramazzini qui in Italia e del National Tossicology Program in America, in realtà non ci sia. E quindi già sulla IARC possiamo mettere un bel punto interrogativo. Un altro dei 15 soggetti che studieranno il 5G a livello europeo è l'Agenzia Nazionale delle Frequenze Francesi, ANFR. Ebbene questa è un'agenzia che è caduta spesso al centro dell'attenzione di diversi ONG e assolazioni francesi che lottano contro l'elettrosmog, perché ad esempio si è dimostrata un po' distratta per quanto riguarda lo studio degli effetti sanitari a campo vicino, quindi parliamo degli effetti del telefonino poggiato sulla testa. E poi un altro ente è l'Ufficio Federale per la Protezione delle Radiazioni in Germania. Ebbene io qui ho scoperto che un Phil Rouge collega questo Ufficio Federale niente di meno che all'ICNIRP, quindi stiamo parlando della Commissione Internazionale per la Protezione delle Radiazioni Non Ionizzanti che a più riprese è risultata essere a busta paga, quantomeno nei suoi aderenti, delle compagnie telefoniche, delle grandi industrie. Quindi alla fine ci stiamo muovendo all'interno di un panorama a tinte fosche. E poi da Zurigo, parlavamo prima della Svizzera, addirittura da Zurigo arriva un'azienda, un'azienda nel settore industria inserita nella ricerca. Si tratta di un'azienda che ha rappresentanze in Cina, in Corea, in India, in Giappone e in America. Vende strumenti per il monitoraggio e la valutazione dei campi elettromagnetici. Potrei continuare, proseguire, dirvi caro Jeff, uno per uno quali sono i quindici attori di questo studio che così tanto è stato reclamato, invocato dai cittadini in lotta per la precauzione. In realtà il dato inquietante non è soltanto la presenza di questi attori, ma la mancanza di noti ricercatori per la precauzione. Faccio un nome su tutti, Leonard Ardel, il noto oncologo svedesi della Orbro University Hospital e manca poi anche l'Istituto Ramazzini qui in Italia. Insomma, se il tutto viene manovrato da Theodoros Samaras, che è l'ex membro del Comitato Scientifico sui Rischi Emergenti del Parlamento Europeo, che deve gestire la ricerca, ripeto, finanziata per 7,3 milioni di euro, io mi sono accorto che Samaras, basta andare su PubMed e fare una ricerca per quanto riguarda gli studi pubblicati da questo fisico non medico, ebbè lui teorizza unicamente la cosiddetta linea degli effetti termici, quindi sconfessando gli effetti biologici, sconfessando il danno e rimanendo unicamente al suo riscaldamento dell'organismo vivente. Io chiudo dicendo che da questo studio così tanto atteso ed invocato, francamente sembra che non possa attendersi nessuno di noi nulla di buono, se queste sono le premesse. Non sono buone le premesse, ma invece prima di chiudere, però raccontami che GAF ha fatto il garante della concorrenza e del mercato, che cosa ha detto? Che il 5G è ecologico? Eh, ci siamo qua! Allora, io sono andato sul bollettino pubblicato il 10 luglio, quindi poco meno di un mese fa, 10 luglio di quest'anno del 2023, e mi sono accorto di una GAF clamorosa, perché l'antitrust, quindi l'autorità garante della concorrenza del mercato, ha messo nero su bianco, su questo bollettino, come il 5G consumerà, apri di cielo, come se nessuno se ne fosse, se lo fosse immaginato, consumerà moltissima energia e soprattutto produrrà tantissima CO2. Quindi allora a questo punto, visto che siamo in piena bagarre, cambiamenti climatici, ci viene chiesto addirittura di cuocere la pasta con il fornello spento, no? Insomma, eh, si mettono al bando le automobili a diesel, a benzina, eh, si foraggiano le automobili elettriche, quelle di Elon Musk che, che scoppiano, si incendiano e prendono fuoco. Quelle che prendono fuoco nel garage, eh? Esattamente, allora si dice che il 5G consuma tanta energia, produce tanta CO2 e allora la soluzione qual è? Secondo il ragionamento eh della G-Com è quella di innalzare i limiti soglia di inquinamento elettromagnetico. Quindi si fornisce un assist clamoroso al governo Meloni che, come ricordiamo, l'abbiamo approfondito qui sulla Casa del Sole TV, sta valutando attraverso la bozza di un decreto legge di innalzare un elettrosmog in tutta Italia, ma il discorso non ha eh non ha praticamente né capo né coda per il semplice motivo che dove il 5G già è a pieno regime e sappiamo che consuma tantissima energia e produce moltissima CO2, addirittura lo spengono di notte. L'esempio ce lo portano dalla Cina dove una filiale della China Unicom spegne letteralmente le antenne ZTE 5G di notte per ridurre i costi di elettricità e soprattutto per inquinare di meno. Come dice poi anche uno studio di Huawei e come la eh sempre dalla Francia nel eh duemila e venti venne prodotto uno studio dove veniva certificato come il 5G andrà a consumare ben molto molto di più rispetto ai consumi attuali. Una previsione inquietante arriva da Vertiv, una società dell'Ohio quotata in borsa e specializzata nella consulenza di infrastruttura tecnologica. Ci dicono addirittura che il 5G entro il duemila e ventisei andrà a consumare dal centocinquanta al centosettanta per cento di energia in più rispetto ad oggi. Vi leggo e chiudo il dato ufficiale della Gcom che parla per quanto riguarda la produzione di CO2 di un valore pari a circa centosessantamila tonnellate all'anno di CO2 in più in favore del 5G. Allora a questo punto dovremmo chiederci se questa è una tecnologia che fa bene a madre terra, fa bene ai consumi e come abbiamo visto prima fa bene anche all'umanità e all'ambiente. Non se ne esce in questo modo però Maurizio. Eh no non se ne esce perché qui troviamo tutti i soggetti anche istituzionali se vogliamo anche quelli indipendenti come abbiamo visto prima per quanto riguarda lo studio del 5G del Parlamento Europeo. Apparentemente indipendenti. Apparentemente indipendenti che si stanno esprimendo tutti in favore di questa strada. Quindi via ed uscita a questo punto diventano eh magari da valutare con un lumicino in un buio che si fa sempre più fitto perché le malattie ambientali non vengono riconosciute. Gli studi cosiddetti indipendenti vengono portati avanti da soggetti che sembrano essere tutti in odore di negazionismo gli stessi alle stesse autorità come la Gcom dice che chiaramente che produce molta energia e produce molta eh CO2 quindi consumo energia produce CO2 ebbene e vanno avanti e proseguono e il governo Meloni si dice prossimo ad innalzare l'elettrosmog. Questo è il lato scuro della transizione digitale. Qui sulla casa del Sole TV lo denunciamo da diverso tempo. Ma noi potremmo vivere altrettanto bene con una tecnologia che va un po' meno veloce oppure non riusciremo a lavorare oppure il problema è che sono i militari che non riuscirebbero a fare la guerra come prevedono. Ma io direi la seconda direi la seconda perché eh ce lo ricordava il Pentagono addirittura durante la presidenza Trump che per la prima volta nella storia dei finanziamenti eh bellici eh sono i stessi cittadini contribuenti a a pagarli visto che l'infrastruttura tecnologica che si sta eh inserendo sui nostri territori è direttamente ricollegata a ad apparati eh militari e poi soprattutto non se ne esce perché poi alla fine fondamentalmente la transizione digitale cosa serve? Serve a cambiare il sistema paese e serve ad arrivare al transumanesimo. Le mire sono esclusivamente transumaniste. Non dobbiamo dimenticarci che tutto quello che si può fare attraverso la rete va poi gioco forza a cambiare in termini anche antropologici la stessa figura dell'essere umano. Vediamo ad esempio i progetti portati avanti da dai big della Silicon Valley. L'ultima iniziativa che riguarda anche la moneta eh digitale è una vera e propria manovra di carattere transumanista quindi quella di dare in cambio della scansione biometrica soprattutto dell'iride degli occhi di dare criptovaluta di dare moneta digitale eh stiamo parlando di qualcosa che prima non c'era che magari per l'utente medio per quanti hanno difficoltà a comprendere questi passaggi può risultare un po' fantascientifico ma di fatto stiamo parlando di estremissima attualità visto che ad esempio per fare un altro caso su tutti con il riconoscimento dell'iride attraverso il 5G un'applicazione su smartphone in India con Adar si dà la razione di cibo quotidiana quindi se non hai queste tecnologie eh a portata di mano rischi di morire di fame quello che purtroppo sta avvenendo di maniera disumanizzante eh in India e e non solo e poi siamo arrivati ai giorni nostri siamo arrivati alle ultime notizie di pochi giorni fa da Brescia ci viene detto che un tal Mattia un giovanotto nostrano si è fatto impiantare addirittura 5 microchip per poter pagare tutto attraverso la mano replicando quello che già un altro imprenditore trevigiano di di Castelfranco aveva fatto nel 2019 siamo in pieno transumanesimo tutto questo sta snaturando l'essenza vitale sta snaturando quello che rappresentiamo da millenni non dimentichiamoci che è proprio Horizon il programma che dicevo prima per lo studio del 5G finanzia la tele nanomedicina quella medicina impiantabile incorporabile da assumere all'interno dell'organismo vivente tutto questo potrebbe far diventare ognuno di noi una sorta di ibrido le premesse ci sono tutte sta a noi generare consapevolezza e diffondere quanto più possibile nell'opinione pubblica quelli che sono i veri pericoli soprattutto le mie espansionistiche della transizione digitale quanto ne parla l'informazione la domanda è retorica l'informazione mainstream non ne parla e l'informazione cosiddetta libera ne parla di questi temi e anche della tecnologia dell'internet dei corpi e così via ma io ti ringrazio di questa domanda caro Jeff perché ci dà la possibilità magari di approfondire un aspetto che viene spesso e volentieri sottovalutato il mainstream magari può produrre come ad esempio mamma rai il programma codice la vita e digitale che è una vera e propria apologia al transumanesimo su queste puntate che sono anche reperibili in rete su internet insomma non è che si stocana il microchip sottocutaneo di più si fa ben oltre si parla direttamente della connessione neurale per arrivare all'internet dei corpi ma quello che invece in realtà sorprende visto che poi il mainstream insomma è chiaro e pacifico lo sappiamo perfettamente continua ad allineare l'opinione pubblica al pensiero unico sorprende invece la cosiddetta controinformazione i canali cosiddetti libri indipendenti ma qui sono tre anni e più che si parla solo ed esclusivamente di uno barra due temi deviando monopolizzando il dibattito pubblico tutti i lati oscuri della transizione digitale tolti noi della casa del sole di buco le rubriche che abbiamo portato avanti in maniera caparbia da da diverso tempo e tolta qualche altra eccezione tolto anche il sottoscritto se vogliamo da un punto di vista di inchiesta e giornalistica beh il resto silenzio tombale il resto nessuno se ne occupa se non magari qualche piccola eccezione secondo me questa è una grandissima colpa una grandissima responsabilità che tutti quanti i canali anche le testate giornalistiche cosiddette libri indipendenti purtroppo si stanno assumendo non informare correttamente nel disegno generale di cosa possa significare transizione digitale di quelli che sono i lati oscuri declinati a 360 gradi ambiente salute privacy geopolitica transumanesimo controllo sociale città dei 15 minuti chi più ne ha più ne metta tutto fa parte di questo smisurato utilizzo delle nuove tecnologie che come ricordavo precedentemente nella mia intervista proprio con te caro jeff teodor kiazinski definiva l'assenza del rischio zero non tanto da un punto di vista di carattere ambientale ma come mancanza di neutralità la tecnologia non è neutra quindi se noi abbiamo pensato e creduto nell'ultimo trentennio che le tecnologie possono essere al nostro utilizzo servizi e consumo bene no con la quarta rivoluzione industriale c'è un cambio di paradigma queste nuove tecnologie stanno svolgendo un ruolo ben preciso anzi in realtà due sono gli obiettivi il cambio del sistema paese il cambio della società civile e il cambio dell'umanità quindi benvenga a casa del sole tv e quanti abbiano a cuore questi temi per poter informare correttemente i cittadini e maurice hanno tutti hanno tutti in bocca giulietto chiesa che non dicevamo bene no e giulietto chiesa per l'appunto sul 5g era stato molto preciso e anche molto molto accalorato nel senso che ha capito subito quanto grave fosse il problema e però stranamente non ce ne parla come di altri temi non si sente molto parlare anche per esempio di israele è un tema che in pochi toccano e invece è ben implicato in tutte le questioni geopolitiche come la tecnologia certo però hai fatto bene a sottolinearlo perché ad esempio io a più riprese magari nei convegni nei dibattiti negli incontri pubblici ricordo sempre il compianto giulietto e ogni volta che cito il suo nome parte in maniera spontanea un applauso caloroso da parte del pubblico ma giulietto tra i big è stato l'unico giornalista d'inchiesta giornalista indipendente libero a schierarsi senza se e senza ma nella denuncia del 5g nella denuncia di quello che è l'impossessarsi dei territori con questa infrastruttura tecnologica che è un utilizzo militare giulietto l'ha detto a più riprese e girano ancora nei online di questo ovviamente non possiamo che esserne felici i video delle sue conferenze dei suoi incontri dove diceva chiaramente che il 5g è contro l'umanità ma tonto giulietto purtroppo uscito di scena mancando ovviamente una figura come lui e oggi questi temi vengono ignorati allora per quale motivo si è vero si invoca tanto al compianto giulietto chiesa ecco sarebbe bene magari anche riprendere i suoi temi principali partendo anche dal 5g e ovviamente la geopolitica e questo a casa del sole tv lo fa in maniera incomiabile da tanto tempo grazie grazie Maurizio non aggiungo altro non ce n'è bisogno grazie e arrivederci alla prossima volta ci ci risentiamo presto grazie a te caro Jeff un caro saluto a tutti gli amici in ascolto e grazie a tutti per averci seguito e ripeto l'appello abbiamo bisogno del vostro sostegno del vostro aiuto perché noi lavoriamo insieme a voi e non abbiamo finanziatori esterni ciò che facciamo lo facciamo con voi e per voi potete sostenerci dalla pagina web www.casadelsole.tv barra sostienici o con una buona un abbonamento mensile o con un contributo una tantum e poi continuando a seguirci e a collaborare a partecipare con noi come state facendo grazie continuate a farlo arrivederci alla prossima volta